Allora ragazzi, piccolo aggiornamento dal laboratorio di Claudio Bonsai Giornate di duro lavoro, sto veramente tardando con un nuovo tutorial sul pino nero Parleremo di manutenzione, parleremo della pulizia degli aghi soprattutto Perché ho visto che ci sono un po' di errori in giro Molto importante, ho strappato un nuovo accordo per gli attrezzi con la Ryuga Questa è roba buona, trovate nel mio sito, spedizione gratuita come sempre È arrivata di nuovo troncafilo, veramente ottima, ne ho solo 4 E in più, mastice giapponese originale per Bonsai Questo è veramente acquisto top, questo non può assolutamente mancare In più ragazzi parleremo anche di concimazione autunnale Infatti state veramente comprando in tanti il mio nuovo concime, Fall Eccolo qua Questo è un sacco da 3 kg Lo trovate soltanto nel mio negozio, quindi se sentite persone che vi dicono Non è buono, non compratelo, non è... Lasciate perdere, ce l'ho solo io Lo produco io Lo vendo solo io Quindi ragazzi Se qualcuno vi dice che non va bene per il Bonsai Questo è un prodotto che ho provato solo io l'anno scorso E adesso lo proveranno i nuovi ragazzi che l'hanno comprato qui da me Ovviamente il presto è già spedito Quindi il prossimo anno potremo tutti insieme vedere i risultati del mio concime Ma per ora lasciate perdere Ok? Lo trovate su claudiobonsai.com Contattatemi se ne volete un po' di più oppure un po' di meno Troviamo la soluzione per tutto Ci vediamo presto con un nuovo tutorial Mi raccomando Per la coltivazione dei pini Ciao ragazzi, a presto